Ciao a tutti e bentrovati sul canale di Ilaria e Almanes, associazione manguana. Oggi ci arampichiamo sull'albero e vediamo un modo semplice e poco dispendioso per fare la manutenzione sia dell'albero che del boma senza tirar sulla barca dall'acqua. Buona visione! Dunque facciamo un paragone, anche se di paragone non si dovrebbe trattare, tra un preventivo medio di un rifacimento dell'albero di una barca di circa 12 metri, fatta con tutti i crismi e ad opera d'arte in cantiere, quindi tirando sulla barca dall'acqua, disalberando e facendo la doppia mano con tinta bicomponente. Sono circa 4.000 euro, IVA inclusa, e circa 15 giorni. Ovviamente la barca deve stare a terra per un pari di settimane. Ci siamo messi a fare invece un'attività fai-da-te, quindi senza pensare di fare lo stesso lavoro fatto dai professionisti, ma sperando di risparmiare e di tenere la barca ferma il meno possibile. Abbiamo trovato una spesa di circa 400 euro e un giorno e mezzo la barca ferma con due persone a lavorare. Con un'attività di grattare, levigare e una mano di tinta monocomponente, quindi sostanzialmente un rapporto 1 a 10, sia su costi che su tempi. Ovviamente il primo ha una certificazione di 10 anni, mentre il secondo è appunto fai-da-te, soltanto con tanto olio di gomiti. In particolare abbiamo grattato l'albero e il boma con una carta da 400 a mano, quindi senza strumenti, con una durata di circa mezza giornata di lavoro in due persone. Poi abbiamo levigato con un panno ed alcol, sia l'albero che il boma, circa un quarto di giornata di lavoro sempre in due persone. E poi abbiamo dato una mano di prodotto unico, ovvero sia primer che tinta, e qui circa tre quarti di giornata sempre di lavoro in due persone. In particolare dobbiamo acquistare della carta, dicevo, da 400 su un albero mediamente usurato e poi salire sull'albero con la massima accortezza, utilizzando doppie drizze per salire, con un consiglio correttamente manutenuto, con una persona che sarà all'albero, in particolare io, e un'altra persona che in pozzetto gestisce le due drizze, per evitare che ci siano momenti in cui almeno una drizza non è correttamente cazzata. Non è semplice organizzarsi per andare su un'intesta d'albero con tutto il materiale, vedete occorre dell'alcol, un pennello, oltre che la carta che dicevo, i panni per coprire la barca, le spugne, i rulli, e ovviamente tutta l'attrezzatura deve essere attaccata al collo per evitare che cada. Quindi è un'attività da fare con grandissima attenzione e soprattutto con grande cura dell'attrezzatura in termini di collegamento della doppia drizza, un inch sempre con stopper messo e senza possibilità di danneggiare né la persona né la barca né tantomeno il lavoro che non è semplice fare, come vedete, a questa altezza con tutto il materiale. È importante quindi prepararsi per bene quando si è in pozzetto prima di salire, con tutte le attrezzature legate per evitare che cadano. La mascherina può servire perché ci potrebbero essere delle esalazioni. Come vedete la barca va coperta tutta il più possibile perché sicuramente gocce verranno fatte. Io mi sono coperto anche addosso perché appunto non volevo buttare i vestiti. Occorre farlo in una condizione di mare e vento perfetti sia per evitare di sballottare sia soprattutto per non sporcare le barche vicine. E quindi si procede con rullo il più possibile e con il pennello qualora il rullo non sia sufficientemente preciso e si debba usare il pennello. Si parte dall'alto, si fa tutta la carteggiatura, poi si pulisce con l'alcol e poi si dà la mano di questa di questo prodotto unico. Ce ne sono di vari tipi che possono essere utilizzati. L'importante è che l'albero sia ben levigato e ben asciutto, quindi senza residui attaccati. Si deve fare attenzione a scendere piano piano per evitare di sporcarsi e per evitare di attaccare oggetti all'albero che quindi comprometterebbero la riuscita del lavoro. L'attività deve essere fatta con la massima sicurezza. Il pozzetto ci deve essere una persona fidata che conosce bene quelle che sono le regole di salire in testa d'albero. Vedete la differenza tra prima e dopo? Effettivamente il lavoro è stato fatto con un bel po' di fatica, questo è il prima, problema, però il risultato è buono. Non si può comparare per qualità al lavoro fatto in cantiere, ovviamente, però se vogliamo risparmiare, vogliamo tenere la parte sempre attiva e vogliamo fare un lavoro mediamente efficace, secondo noi può essere un buon consiglio sicuramente da provare. A noi è venuto abbastanza bene, siamo molto soddisfatti, vediamo quanto molto dura, ma può essere sicuramente da provare. Grazie!